Immaginate di non avere più le fotografie sul vostro smartphone e pensate che oggi passano tutti da lì. Immaginate quanto si può perdere. È una caratteristica umana, le macchine hanno dei bug e noi umani abbiamo un bug, cioè che non riesci a tapparlo, nel senso è proprio naturale, poi sì, puoi cercare di rimettere a posto, però tuttavia è un bug che è lì, è lì e ci siamo nati tutti, quindi siamo attratti da qualcosa che possa in qualche modo, sia frutto di fortuna. E il 91% degli attacchi informatici globali nel 2023 è stato effettuato attraverso tecniche di ingegneria sociale. Quindi ecco perché la nostra formazione, la conoscenza di questo mondo è fondamentale. E per le persone perché? Perché alla fine le aziende sono fatte di persone. Siamo noi che dobbiamo proteggerci per primi, no? Noi siamo il più grande punto di ingresso di solito per i danni all'azienda, ma siamo anche la più grande protezione, per cui, come dire, siamo noi, no? Tendiamo a, come dire, a credere a cose che non esistono. E questo lo vedo quando mi segnalano, mi arrivano centinaia di segnalazioni ogni giorno, un po' per strisce, un po' per le varie collaborazioni, e mi dicono, sentite questo, ciao Marco, vi assicuro ne ricevo almeno uno al giorno così. Carlo Lamarco, grazie del lavoro che fai, davvero, eccetera, ti seguo sempre. Grazie a te ho potuto, sicuramente mi sono salvato da una serie di truffe, di cose, quindi ti ringrazio veramente tanto. Volevo solo chiederti una cosa, c'è mio zio che mi ha detto che sta guadagnando un bucchio di soldi con questa super mega giga soldi, punto com, e dice che ti dà tre volte tanto in un mese. È vero?